buongiorno come state oggi fa super 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 caldo ma andiamo a lavorare noi io e la mamma andiamo a fare un lavoro difficile cioè andiamo a togliere tutte le erbe dove c'è il bombolone del gas e mettiamo il nylon per terra perché non vogliamo più erbe perché non cresce neanche erbe cresce proprio alberi e allora vediamo se siamo buoni di fare sto lavoro va bene mamma mamma si è contentissima di farlo un po' te dirò bene dai oggi venito da qua buongiorno a tutti cominciamo a grattare il primo grattino allora 25 37 43 e 44 37 11 20 27 e 23 32 31 24 17 e 40 col primo grattino abbiamo vinto 37 2 euro la madonna ma io di niente benissimo ma finito apposto molto canale via 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 ti ho mettio qua che dopo so giusta allora la stellina il sole il ferro da stiro l'anello il forziere la perla l'elefante la pepita e il corno o il corno e la stellina bene allora dunque ragazzi il sole ah il sole ce l'abbiamo che culo oh calea il sole ce l'abbiamo ora mamma con il sole vieni qua ora il sole il sole 5 euro dopo l'arcobaleno 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 anche ah calea anche l'arcobaleno ora l'arcobaleno e il sole che culo la stella la stella e la madonna è ben po' è ben po' è ben po' è qua aspetta il pentolone no il pentolone no il pentolone no vero il corno la pepita l'elefante l'elefante la perla no e l'anello no e il forsiere no e il ferro del cavallo no euro che abbiamo vinto con la stellina 5 euro dopo e l'arcobaleno altri 5 euro e dopo il sole 5 euro 15 euro sì o no bene ecco bene brava 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 giornata fortunata sì è 17 euro che male il dio novità di questo periodo qua ho il dito questo qua si piega così e delle volte non si raddrizza più fa proprio lo scadro resta così fermo mamma mia se io cascaratocchi dopo facciamo un video vi faccio vedere i lavori prima e dopo va bene e vi saluto adesso così e dopo facciamo un altro piccolo aggiornamento così vi faccio vedere anche la dal di beton com'è venuta ciao ragazzi